Ciao! Ciao! Nome? Margherita, Giulia, età? Undici anni, otto anni, città? Napoli, Napoli, Marghe, Napoli, Napoli? Giuliano, Giuliano, scuola, prima media, terza elementare, colore preferito? Diciamo verde acqua. Tutti quanti? Uno preferito, Giulia? Verde acqua, perché sì, mi piace il colore quando lo metti nell'acqua. Marghe, un pregio di Giulia? È dolce. Giulia, un pregio di Marghe? Molto acida. Un pregio, non un difetto, un pregio. Ah, allora, è gentile perché a volte mi dà prestare cose, a volte. Marghe, un difetto di Giulia? È troppo presuntuoso, ogni cosa vuole farlo lei e se non l'accetti è meglio che te ne scappi, subito inizia a buttare le mani addosso, perché non si sa proprio. Vabbè, comunque noi siamo sempre insieme, belle, belle. Giulia? È molto acida perché sì, perché si arrabbia subito e a me mi fa salire l'energia, quindi è molto acida. Domanda a tutte e due, rispondete insieme. Avete un fratello o una sorella? Avete? No, cioè, siamo andati alle due. Marghe, vorresti un fratellino o una sorellina o sarebbe bene così? Siamo bene così, io sto bene così, però un fratellino piccolo andrebbe anche bene, però mi ha contanto mia sorella perché è troppo buona. Giulia? Giulia, vorresti un fratello o una sorellina oppure sei bene così? lei mi vuole una sorellina perché è bella lavorare perché un calcio e poi sotto così, però mi basta lei perché è bellissima. Mamma, le tue figlie vogliono un altro bambino o bambino. Andiamo avanti. Chi preferisci, Marghe, mamma o papà? Eh, vabbè, a te due, però papà è più buono, papà. Brava, se la ti spezzo. Giulia, chi preferisci, mamma o papà? Te due non riesco a decidere. No, a te due non ci riesco. Dici uno? Non ci riesco. Non ci riesco. E no, non vale. Marghe, un tuo pregio? Sono bella. Giulia, un tuo pregio? Sono bella. Buona. Marghe, un tuo difetto? Sono amara su certe cose, tipo sulla scuola, se mi impegno io, tu non puoi copiare, mi dispiace, punto. Dattene questo. con le caramelle avara. Giulia, un tuo difetto? No, scusami, un tuo difetto? Il mio difetto è che mi salgo in nervo e allora devo subito arrabbiarmi e urlare con una pazza. Marghe, forse già ha risposto. Chi è più brava, mamma o papà? Papà, senza dubbio. Giulia, chi è più brava, mamma o papà? Papà. Brave, dopo fico una bella cosa. Una bella cosa, no? Una cosa così. Marghe, cantante preferito, se ce l'hai. Tiziano Ferro. Giulia, cantante preferito? Io due. Dimene due. Adesso il Bernabé, quando ho scoperto l'Odia, c'è. E come si come si chiama? Ricky. Ok. Per noi. Poi, Marghe, chi ha pensato di aprire un canale? Io. Giulia, chi ha pensato di aprire un canale? Lei. Lei. Marghe, sai di dare un video? Sì. Giulia, sai di dare un video? No. Lei, lei. Marghe, chi è più bella? Tu o Giulia? Io, ovviamente. No, no, tutte e due, dai. Giulia, chi è più bella? Tu o Marghe? Io. Marghe, preferisci dolce o salato? Dipende dai periodi. Ora preferisco il dolce, perché siamo sotto Natale, quindi wow. Giulia, dolce o salato? Salato, perché in questo periodo si mangia l'insalato. Marghe, dolce preferito? Nutella. Giulia, dolce preferito? Non mi viene niente. Non è nessun dolce, perché non mi mangi dolce. No, niente. Marghe, giorno della settimana preferito? Sabato o domenica? Sabato perché, allora, non dipende però, sabato quando non andiamo a scuola, perché sabato quando andiamo a scuola, lasciamo di mattina e torniamo la sera, mentre domenica lasciamo solo di mattina, quindi non mi piace, basta. Giulia, giorno della settimana preferito? Venerdì e sabato. Come mai? Allora, il sabato perché usciamo dalla mattina fino alla sera, dopo, così, e il venerdì mi piace così, perché mi piace, come si scrive? Marghe, giorno più brutto della settimana? Lunedì perché ti devi svegliare, allora, la domenica dormi fino a mezzogiorno e lunedì devi svegliare alle 7.45, così, no, lunedì. Giura. Lunedì e martedì. Un giorno. E perché? Ah, lunedì. Perché, cioè, dopo due giorni dormi tutta bella calma, poi dopo una mattina, ma non so, vado a dormire, wow, mamma, ma che colpo? Marghe, pizza preferita? Margherita, però in questo periodo mi mangio anche la pizza e le patatine. Giura, pizza preferita? La pizza preferita. Io vado sempre nelle parti delle pizzerie, ma mi sento da un po' di pizza, perché mi vado, perché mi copio. Marghe, preferisci l'estate o l'inverno? L'inverno, perché viene Natale, ci sono le feste, e mentre ci sono le feste tu puoi dormire con il piumone addorso fino a mezzogiorno, mentre l'estate ti svegli perché senti caldo e non mi piace. Ma come dormi fino a mezzogiorno se devi andare a scuola? Eh no, quando ci sono le feste di Natale. Giulia, estate o inverno? Estate o inverno, perché poi vado, faccio i tuffi, poi vado sott'acqua, quindi io, non c'è, per tutta la vita c'è, però pure il Natale, perché c'è, pure il Natale c'è. Poi? Eh, l'estate c'è il Natale. Marghe, chi è più brava a cantare, tu o Giulia? Io, chiaramente. Fammi sentire qualcosa. Canta qualcosa? Ehm, canto. Ma non mi viene niente, niente. Non sai cantare. Come è? Giulia, Giulia, chi è più brava a cantare? Tu o Mario? Non tornavi una canzone. Sto pensando, Polaroid. E io, e io, e io, tu fermi il motore, fermi il momento, oh, ma farò davvero il non dallo schermo. Oh, apri ora. Chi è, Marghe, chi è più brava a recitare? Io. Questa non c'è dubbio, caro. Fammi finta, recitami, fammi una parte disperata. Giulia, come mi salverò? Non si può stavare, io, no, come stavano, io, no, come stavano, io, no, come stavano, io, no, basta, va bene, va bene così. Giulia, chi è più brava a recitare? Tu o Marghe? Io, perché lei è un po', con la voce è un troppo. Fammi, Giulia, una faccia stupita. Recitami una parte che ti sei stupita, dai, con questa faccia, va a vedere. Guarda, guarda, guarda com'è bello sto regalo, troppo bello. Chi è più brava a cantare e a recitare, scrivetelo nei commenti. Ma io non ho cantato, però. Marghe, la tua youtuber preferita? Marghe Kawaii. Giulia, la tua youtuber preferita? Giulia Kawaii. No, Marghe Giulia Kawaii. Marghe, Giulia Kawaii. Ok, l'intervista doppia la possiamo terminare qua. Se volete altre domande, un'altra intervista doppia, 3.000 like. Marghe, saluta la Magic Family. Allora, faccio l'intro? Sì, posso? Come vuoi. Buongiorno, ragazze e ragazzi. Bacione a moi. Giulia, saluta la Magic Family. Devo salutare il preferito. Devi salutare, a piacere lui, come vuoi. Quindi ragazzi, questa era l'intervista doppia. Spero vi sia piaciuta. A me è piaciuta tantissimo. Se ne volete un'altra, lasciate 3.000 like. Iscrivetevi al canale. Lasciate tanti like. E altre cose. Buongiorno, ciao. Ciao.